ciao a tutti oggi vi faccio vedere come ho reinnestato il ciliegio perché in questa zona qua i due innesti non hanno preso e praticamente vi spiego gli innesti sono della stessa la stessa qualità erano lo stesso fase di germogliazione però in questa parte qua non ha preso l'innasto e così ho pensato bene di reinnestare questi usare questi getti qua che in teoria vanno tolti appena gli innesti cominciano a germogliare la pianta di butta quindi comincia a rivegettare perché è stata tagliata io ho riutilizzato i getti della pianta questi qua qua dietro adesso voi non vedete questi qua usati come innesti per poter avere una pianta in breve tempo vi faccio vedere il video iscrivetevi al canale lasciate un commento e tutte queste cose qua ciao a tutti buona visione ciao a tutti 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti a tutti ciao a tutti 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 a tutti